amici del giardino carnivoro buongiorno oggi trattiamo un argomento abbastanza importante è una non parliamo proprio di piante carnivore ma di un elemento che aiuta la crescita delle piante carnivore e sto parlando dello spagno questo è un elemento diciamo che vive in natura nelle torbiere appunto è creato da torba bionda acida di spagno che questa fibra vedete queste fibre negli anni crescendo in salita prima che si stratifica e si formano vari livelli di torba c'è quello magari più rovinato e quello anche migliore in base a questo c'è anche la qualità della torba però in superficie nel sottobosco comunque in zone molto bagnate vive lo spagno ce ne sono un sacco di varietà a testa questa diciamo si chiama testa dello spagno ok è l'apice praticamente la parte più vegetante e poi c'è tutta la fibra e poi c'è questa parte che diciamo dove riceve prevalentemente l'acqua comunque fa un po la scorta principale d'acqua infatti dovete sapere che lo spagno non è un muschio bensì è una è una pianta quasi comunque una tipologia di muschio che ha la capacità di di trattenere molto l'acqua nonché di non creare molte muffe o funghi al suo interno mantenendo sempre ben arieggiato e ben umido sia la fibra in sé che anche qualsiasi talea o radice che vogliamo mettere al suo interno quindi lo spagno diciamo come potete vedere ha tre diciamo divisioni di crescita ha praticamente la testa che è la parte più verde dove riceve anche questa luce un po diffusa generalmente è meglio non tenerlo spagno al sole forte dell'estate anche se qualche varietà si abitua però tendenzialmente diventa brunito e tende a rovinarsi quindi mezzo meglio una mezzombra o sole qualche ora al mattino poi c'è la parte centrale che è verde fin quasi diciamo al termine della fibra ecco questa parte è molto particolare perché se noi recidiamo sia la parte bassa marrone che è quasi ormai trasformata in torba e recidiamo le teste questa parte verde se stesa bene nella torba come vi mostrerò dopo è capace di un mese o due di rigenerare nuove teste che andranno a fare un bel cuscino di spagno ora andrò a mostrarvi come che tipologie di spagno propongo nello shop perché sono due abbastanza differenti anche in base alla pianta o alla spagniera che vogliamo creare come trattarlo come pulirlo e come alla fine creare magari una spagniera o come avvolgere certe tipologie di piante con lo spagno attorno alle radici o come anche intorno alla base per fare un bel cuscinetto fresco ora andiamo a vederlo più da vicino ecco qui lo spagno queste sono le due tipologie di spagno che propongo attualmente nello shop arriverà anche una terza sarà lo spagno secco diciamo è questo spagno prodotto in nuova zelanda tendenzialmente o comunque lì c'è la possibilità di raccolta però secco ecco lo spagno secco andremo a trattarlo in un'altra puntata quando parleremo specialmente di elianfore o comunque altre piante che adorano nel terreno avere torba però gran parte di questo spagno secco che quasi sembra così lo spagno secco però le teste sono veramente ormai troppo secche diventate gialle quindi questa è una fibra diciamo vedete è lo stesso spagno però lasciato un po seccare allora questo spagno lo spagno ha la capacità sì di trattenere molta acqua però vedete questa è la seconda varietà di spagno che tratto vedete se ci si dimentica l'acqua può diventare molto secco allora non è come le piante nel senso lo spagno ha una gran capacità di assorbire acqua e anche di rigenerarsi anche un livello superiore di secchezza così lui è capace di rigenerarsi basta solo andare a annaffiare abbondantemente vedete adesso noi andiamo a annaffiarlo lui riassorbirà velocemente l'acqua vedete che veloce che è diventato come il suo fratello che era tutto bagnato vedete anche questo spagno se adesso andiamo a bagnarlo vedete vedete le fibre come velocemente assorbono l'acqua ecco lo spagna questa gran capacità di assorbire praticamente l'acqua e se non è completamente morto diciamo di rigenerarsi vedete anche in pochi secondi da secco ora quanta acqua assorbito è ritornato bello verde e ora se andiamo a spremerlo cadrà un sacco d'acqua vedete anche questo che non l'ho bagnato se andiamo a toccarlo lui riuscirà a far cadere un sacco d'acqua vedete ecco per questo è ottimo per le carnivore vedete sembra quasi secco se lo spremo ritorna secco appena gli risiedi da acqua lui si allarga fa scorta di acqua all'interno delle sue cellule ed è ottimo appunto per le piante carnivore che sono comunque piante di palude però se abbiamo uno spagno comunque un materiale anche migliore della torba perché la torba diciamo deriva sempre allo spagno però è già più anziana diciamo quindi già vissuta vedete in questo spagno soprattutto questo che deriva da una betullaia noi possiamo trovare queste parti qui marrone sapete cos'è questa questa è proprio torba praticamente questa è humus diciamo come lo chiamano o torba che andrà a formarsi negli anni e andrà a diventare così la parte più bassa dello spagno diventerà torba e lui crescerà comincerà a crescere in altezza vedete questa è la fibra come vi ho mostrato prima c'è la fibra più o meno lunga qui magari posso anche averla spezzata ecco qui vedete questa è una fibra doppia vedete qui torba quasi questa è una parte comunque vitale della pianta si può tagliare l'apice con una forbicina vediamo se riesco tagliamo la punta questa dopo vi mostrerò come posizionarla possiamo tagliarle entrambe vedete e questo comunque se steso nella torba se messo così nella torba insieme a molti altri è annaffiato lui entro un mese e due comincerà a rigenerarsi e a creare nuovi punti di crescita bene ora vediamo come trattare lo spagno per creare una spagniera o comunque usarlo per le piante carnivore vedete questo è lo spagno che era secco dopo cinque minuti un quarto d'ora già è ritornato bello verde vedete è un po più scomposto questa tipologia è lo spagno a fibra grossa mentre questo spagno di qualità superiore diciamo è più pulito alla fibra più piccola ora qui lo vediamo allora intanto partiamo con lo spagno entrambe le tipologie andiamo a togliere tutte le parti diciamo che non riguardano lo spagno vero e proprio perché vogliamo fare una cosa pulita e comunque queste cose magari possono degradarsi col tempo queste sono delle eriche anche se sembra spagno in realtà meglio toglierla perché poi fanno delle radici abbastanza consistenti che sono foglie punto della betulla rametti vari via ecco io ho allora se queste sono le due fibre dello spagno spagno a fibra grossa spagno premium quality diciamo io taglierei le teste così anche a queste 3 la parte diciamo più verde più di decoro diciamo dello spagno vedete così se lo mettiamo subito sopra verrà fuori subito un bel bel arredo diciamo anche questo in 15 giorni un mese vedremo che proprio diventerà molto pulito tutto il resto della fibra cioè diciamo dalla parte da qui in giù è lo stesso per questa tipologia di spagno tagliamolo pure a pezzettini ok vedete io qui l'ho tagliato in più parti poi andrò a posarlo così bello largo ecco anche qui vedete ci sono degli aghetti che magari meglio rimuoverli comunque è sempre aghi di pino così è come un po il bark sono comunque dei materiali vegetali che non fanno male alle carnivore più per fare una cosa pulita vedete possiamo stenderli così appiattirli un po con la mano in modo che vanno anche a toccare bene la torba e poi in un primo momento si va a bagnare spesso diciamo mettiamo teniamo la mezz'ombra lo sfagno ci darà gran risultati anche queste parti un po più scure comunque rivegeteranno basta solo avere un po di pazienza mentre con le teste vedete si può far subito diciamo anche metterle larghe distanziarle mettere una qua io solito faccio così come se fosse una piantina gli do proprio un po di torba attorno e lui continuerà a crescere a fare il cuscinetto fino a ottenere una cosa così questo è l'effetto diciamo del quality premium e questo invece lo sfagno a fibra grossa come diventerà vedete la differenza bello grosso qui ho preso un mix comunque di sfagno diciamo a testa più piccole le ho prese poi vi mostrerò delle foto in cui vedrete anche vari metodi di coltivazione io preferisco questo con la torba do da bere dall'alto per mantenere questa torba molto umida poi lo sfagno come abbiamo visto prima la sua capacità di assorbire acqua si arrangia a far tutto da solo solo d'estate o magari in inverno in inverno basta una volta a settimana una bella bagnata dall'alta con un beveratoio o con uno spruzzino ed estate anche se avete tempo una volta ogni giorno o due soprattutto la sera rinvigorire diciamo con una bella bagnata d'acqua questo sfagno vedrete che si rimpolpa e crescerà ancora meglio e tenerlo comunque un po a mezz'ombra ora vi mostrerò con delle foto come lavorare anche sull'elianfore come gradiscono lo sfagno vedete ciao a tutti al prossimo servizio quando arriverà lo sfagno secco ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.